cari aspettatori e cari ascoltatori seconda puntata del corso di recupero dedicato alla poesia partiamo direttamente perché tutti quelli in ascolto penso ormai dovrebbero già aver capito e sapere comunque sia tutto quanto oggi dobbiamo dobbiamo presentare le figure retoriche io ho scritto infatti il titolo figure retoriche e di suono perché io spero di poter arrivare anche a quelle ma non penso che se già facciamo figure retoriche di significato e l'ordine delle parole siamo già contenti e poi spostiamo la prossima volta gli altri aspetti allora cosa dire su questo argomento dunque innanzitutto è chiaro che se parliamo di linguaggio figurato lessico poetico e figure retoriche un libro scusatevi non l'ho nominato per gli ascoltatori non studenti pane bianco valani metodi di fantasia poesia e teatro zanichelli per la seconda superiore il libro adottato dal mio istituto è chiaro che il libro dice il significato profondo è una poesia si esprime attraverso l'uso creativo di figure retoriche espressioni che implicano uno scarto della lingua comune e attribuiscono alle parole un significato diverso da quello letterale e non diciamo vedi mamma mia ma cos'è sta cosa cos'è sta figura retorica tutti usiamo figure retoriche tutti ma lo usiamo nella vita quotidiana senza accorgerci perché il tavolo ha le gambe ma quelle del tavolo sono gambe vere come le nostre no però per effetto di metafora la parte che corrisponde alle nostre gambe ha dato anche il nome alle parti che reggono il tavolo e qua mi direte sì però faccio un altro esempio sempre di metafora controllate non avere genitori attorno perché se no mi denunciano se io vado da un mio amico e gli dico che è un grandissimo stronzo io non sto dicendogli che lui è un escremento per capirci ok sto dicendo dandogli una caratterizzazione in modo che si capisca con un esempio diciamo così quello che io voglio intendere e sapete perché le figure retoriche nella poesia sono usate tantissimo perché con queste figure retoriche soprattutto con la metafora ma non solo ovviamente noi siamo fatti il nostro cervello è fatto in modo che noi comunichiamo molto meglio siamo più immediati perché se io l'amico di prima invece degli quello gli dico non sei una brava persona perché ritengo che tutti si è comprato non troppo bene per questo e quest'altro motivo l'amico ancora ben capito il livello di giudizio grosso di lui se gli dico quello che ho detto prima accidente se ci capiamo direttamente è chiaro ragazzi quindi questo è il discorso la poesia non è che usa non è che le figure retoriche ci sono solo in poesia la poesia usa figure retoriche proprio perché è un modo per capirsi meglio e a pagina 27 iniziamo a vederle ragazzi io ho una brutta notizia mi avevo già dato anche ieri l'ultima lezione non ieri l'ultima lezione scorsa le queste parole vanno imparata a memoria lì non si scappa è un linguaggio tecnico l'esempio che ho fatto di prima 6 1 eccetera è una metafora cioè il fatto che io ti dico sei come qualcosa ma senza metterci il come perché è una metafora perché se ci mettessi il come ma avrei meno efficacia cioè sei cattivo sei sei schifoso come uno eccetera in quel caso perdere un po di efficacia in altri casi invece aiuta comunque se ci mettiamo il come si chiama similitudine e io penso queste due qua sono le definizioni che tutti dalle medie e anche da prima si ricordano più o meno no la similitudine è sempre meno efficacia no dipende dipende perché anche quelle le usiamo moltissimo ma perché col come abbiamo poi un comparativo di uguaglianza no marco è bravo come fabio ok e e quindi tutto sommato diciamo che ci sono situazioni differenti in cui usiamo più uno usiamo più l'altra l'esempio di prima quello volgare sicuramente fa molto più effetto a livello di metafora solitamente la metafora è molto più diretta se io entro in classe dico questa classe è come un inferno o dico questa classe è un inferno capite che il secondo è molto più forte però se dico marco è bravo come fabio e dico marco è fabio ecco in quel caso lì la cosa non è più così così immediata quindi ognuno ma noi parlando lo facciamo naturalmente però dobbiamo sapere che esistono dobbiamo sapere che appunto che i poeti quelli che e anche su questo aspetto ci tengo i poeti lavorano tantissimo per portarci una poesia per portarci un'opera è falso quello che dicono che basta l'ispirazione boom e via ma come facciamo a saperlo ma semplicemente perché come dicevo ieri abbiamo dei testi a pagina 27 avete la lirica soldati di ungaretti si sta come d'autunno sugli alberi le foglie perfetto facile facile tranquilla ecco pensate che dalla prima stesura all'ultima sono passati 14 anni 14 anni in cui lui ha cercato di mettere a posto se qualcuno pensava non avesse altro da fare no era il suo lavoro lui era un poeta e il suo lavoro cercava di farlo per bene di mettere a posto le parole nella maniera migliore per appunto per dare l'effetto migliore e infatti al in all'università un giochino classico era provare a spostare queste parole vedere se veniva uguale non veniva mai uguale si sta come le foglie d'autunno sugli alberi è diverso si sta come sugli sulle foglie sugli alberi d'autunno è diverso si sta come d'autunno sugli alberi le foglie è tutta un'altra musicalità è tutto un altro discorso e quindi i poeti queste cose qui si c'è ci vuole istinto ma ci vuole anche allenamento ci vuole scuola cristiano ronaldo è un fenomeno no ha un talento probabilmente naturale sicuramente inferiore a quello di messi scusate perché è un appassionato di calcio casco sempre lì ma comunque sia ha un grandissimo talento di base ma senza l'allenamento senza lo studio senza lo sforzo lui non sarebbe probabilmente arrivato dov'è magari balotelli aveva più talento all'inizio di ronaldo poi balotelli sappiamo tutti che fine ha fatto quanto ha studiato quanto si è sforzato ok e anche per la poesia tutto sommato è così ribadisco scusate se dico cose banali se dico cose che vi sembrano banali mi scrivete professore andiamo un po più sull'approfondimento che ci interessa maggiormente ok poi ci sono vari esempi ma quello io vi invito a guardarveli voi gli esempi alle pagine 27 seguenti se alla luce di quello che vi ho detto è più chiaro allora ho fatto bene il mio lavoro se no come sempre mi scrivete via mail e mi dite se c'è qualcosa che non va bene sinestesia allora sinestesia è un termine che sembra difficilissimo da ricordare in realtà è sì in realtà è difficile stavo cercando qualcosa ma è chiaro di portarmi fuori strada comunque sinestesia la sinestesia però è abbastanza facile da capire nel senso che è un qualcosa che si riferisce a dice il vostro libro campi sensoriali diversi oh mio dio che vuol dire vuol dire che vuol dire che vabbè io qua adesso mi vengono in mente degli esempi poetici li faccio senza vergogna quasi modo a un certo punto in alle fonde dei salici durante la guerra mondiale quando una madre vede il suo figlio che sto torturato dai dai fascisti e che è appeso al palo del telegrafo descrive il suo grido come un urlo nero ecco questa è una sinestesia perché il nero lo vedo ma l'urlo lo sento poi vabbè c'è anche Baudelaire qua sempre si ha lodato esistono profumi freschi adesso io lo so che ormai lo diciamo tranquillamente che un profumo è fresco però il fresco lo sentiamo col tatto mentre il profumo lo sentiamo col naso con l'olfatto ok carni di bimbo dolci come gli oboi e verdi come praterie anche qua il dolce ma siamo abituati a dire che una persona è dolce ma non è che noi la lecchiamo per dire che è dolce ok anche qui una sinestesia che usiamo tranquillamente ma è comunque una un qualcosa una descrizione che viene da un senso il gusto in questo caso trasferito ad altri sensi ad altre ad altre comunicazioni ok quindi sinestesia perfetto poi andiamo sempre più sul difficile abbiate pazienza mi raccomando memorizzatele una per una notate le differenze guardate gli esempi avanti in questo modo metonimia ha solo un problema è quasi identica a quella che viene dopo che è la sineddoche allora intanto cerchiamo di capire cosa fanno e poi dopo andiamo poi a cercare appunto di distinguere le due iniziamo con la metonimia che vuol dire scambio di nome no questa abbastanza facile perché c'è nome nel nome nim nome ce la ricordiamo abbastanza metonimia e se non ce la ricordiamo la stima memoria che vi devo dire perché c'è questo scambio di nome perché praticamente il vostro libro dice l'effetto per la causa è come se fosse facile descrivere l'effetto per la causa uno dei grandi problemi della della civiltà contemporanea è che spesso noi confondiamo le cause con gli effetti no e tipo siamo tutti in casa per colpa del governo no siamo tutti in casa per colpa della malattia che c'è in giro ok si diceva durante la quarantena la causa il covid il governo l'effetto è stato che il governo è stato costretto a mettere la gente in casa non so se mi spiego non vuole essere un discorso politico però vuole essere semplicemente un modo per descrivere la situazione per descrivere come come a volte ci confondiamo su questi aspetti quindi quando vediamo un esempio metonimia effetto per la causa come vediamo qua sopra su con leopardi no le sudate carte non è che sono le carte che sono sudate no è lui che a studiare queste carte suda pensate studiare talmente tanto che sudi e quindi è lui che suda e la causa sono le carte che studia quindi l'effetto è il l'effetto scusatemi è il fatto che suda la causa sono le carte ma le carte non sono quelle che sudano mi spiego ragazzi forse la più facile è la mia di prima col governo secondo me ci capiamo meglio col governo il governo ci ha chiuso in casa no siamo in causa per il governo non siamo in casa per la covid anche quello è una metonimia poi più facile l'astratto per il concreto ma questo sapete perché facciamo fatica a capire queste cose perché le facciamo talmente regolarmente che non ci sembrano strane e quindi facciamo anche fatica a riconoscerle questo è molto bello l'astratto per il concreto la gioventù la gioventù del luogo come dice qua leoparde lui dice loco perché appunto è un poeta ricerca il termine più antico ma la gioventù del luogo perché è un astratto perché la gioventù è un concetto astratto la gioventù è una situazione no qual è il concreto i giovani del luogo sono il concreto quindi anche in questo caso metonimia poi è chiaro andava al campo archeologico il cortino di fianco diceva che bella gioventù non stava dicendo che tutti i giovani del mondo fossero belli non stava dicendo che fosse bello essere giovane stava dicendo che belli i ragazzi che in quel momento era il campo archeologico anche quella è una metonimia se non sono chiaro ragazzi scrivetemi contenente per il contenuto beh questo è molto facile qua dice va beh qua ci mette pascoli il nido nell'ombra perché il vostro libro deve fare le poesie non è dozzinali come me che butta dentro cose ma noi regolarmente lo facciamo il contenente per il contenuto andiamo a berci un bicchierino non è che andate al bar a spararvi il bicchiere di vetro di plastica di quello che è no stiamo anche qui una metonimia stiamo dicendo andiamo a farci un bicchierino che vuol dire andiamo a farci il liquore il l'alcolico contenuto dentro un bicchiere solo detto così non dice nessuno ok si dice andiamo a farci un whisky andiamo a farci una vodka andiamo a farci un andiamo a farci un bicchierino metonimia sto parlando del contenente ma in realtà voglio dire il contenuto altro esempio come si chiama il presidente degli stati uniti come viene detto spesso si dice trump ha detto che oppure la casa bianca ha detto che anche questa è una metonimia non è la casa che ha parlato ovviamente si parla di casa bianca perché al suo interno c'è il presidente trump ok e quindi si utilizza il contenente l'edificio in cui vive per indicare il contenuto stessa cosa quando qua si parla di palazzo chigi del quirinale eccetera eccetera metonimia l'opera per l'autore anche questo quando vi dico ragazzi avete letto dante non vuol dire che vi chiedo se avete un amico tutto tatuato di cui avete letto tutti i tatuaggi avete letto dante sto indiricendo ragazzi avete letto l'opera di dante ok quindi come esempio di monet eccetera eccetera lo strumento per la persona adesso non sono un esperto di tennis comunque qualcuno magari mi dirà qual è come dice il vostro libro la racchetta migliore d'italia non stiamo parlando di un confronto fra strumenti sportivi stiamo parlando di chi quella racchetta la impugna gioca a tennis ok e benissimo può essere una buona forchetta non vuol dire che siamo degli altri ma ci siamo capiti dai insomma quindi mi sembra anche purtroppo oppure la materia per l'oggetto qua dice ferro invece che spada legno invece che barca ma tutti quelli che hanno visto gomodo che hanno visto qualche cosa il ferro è la pistola no quindi si intende non l'oggetto stesso ma si intende il materiale di cui è composto la sineddoche è molto simile solo che la differenza di prima era qualitativa ok cosa vuol dire qualitativa vuol dire che sono cioè che non sono quantitative non so come dirvelo diversamente adesso spero con gli esempi di poter fare un po più chiarezza e tenete comunque conto che queste due sono molto molto vicini tra loro come concetti e che faccio fatica a credere che vi chiederanno uno o l'altro ma non si sa mai l'importante comunque che riconosciamo almeno il concetto e che ricordiamo che metonimia ha un aspetto qualitativo sineddo che un aspetto quantitativo cosa vuol dire quantitativo subito un esempio classico la parte per il tutto e indichiamo una parte di una cosa per indicare tutto quanto quindi non è più qualità non è più un oggetto che contiene per quello che c'è dentro è quantità abbiamo una cosa che è grande 100 e noi per definirla la usiamo 20 se io entro in classe e dico qua ci sono dei buoni cervelli io sto indicando una parte specifica del pensiero ma una parte minimale di un essere intero ok in realtà sto dicendo ci sono delle buone menti stessa cosa volevo dire ci sono dei buoni studenti dei buoni ragazzi eccetera eccetera ok stessa cosa se in poesia si dice il mare solcato da vele non è che non c'hanno le barche sotto no ragazzi scusatemi per la stupidaggine che continuo a dirvi di questi esempi ma spero così che ci possiamo capire il genere per la specie vedo il mio felino che sta girando qua fuori in realtà non è un felino generale è il mio gatto ok ma per esempio più chiaro è l'ultimo esempio macchina invece che l'automobile no perché perché macchina si intende un macchinario nel anche nei nostri laboratori ci sono dei macchinari e quindi l'automobile è una macchina sì perché è un sistema meccanico che si muove ok però noi la chiamiamo macchina quindi il suo genere la sua tipologia per indicare una cosa specifica l'automobile ecco una sineddo che non stiamo facendo delle differenze dal punto di vista appunto della funzione diciamo così da cosa serve ma le stiamo facendo sulle dimensioni se l'anno scorso avete fatto un po di insiemistica queste cose qua forse le capite no parliamo ecco la sineddo che parla di insiemi cioè all'interno delle macchine c'è anche l'automobile e io chiamo macchina automobile l'automobile la macchina scusatemi all'interno dell'uomo del ragazzo c'è anche il cervello e quindi io chiamo cervello all'interno del bicchiere non c'è il whisky il whisky è dentro il bicchiere non so se capiamo la differenza il whisky non è un pezzo del bicchiere il whisky è dentro ok singolare per plurale e qui ci siamo cioè qua lo usiamo ampiamente quando si dice l'insegnante oggi non vuole più andare a scuola non è un insegnante specifico è l'insegnante medio no lo studente oggi non vuole più studiare così c'è un po anche per voi tanto tutte cose che sentiamo in giro quotidianamente o quasi non si dice lo studente cioè il tal studente si dice tutti quelli che fan parte dell'insieme studente ok poi un numero per il determinato per l'indeterminato vabbè qua parliamo più che altro di iperbole secondo me nel senso dico durerà mille anni eccetera sì può voler dire tempo lunghissimo non vuol dire mille anni esatti ma qua secondo me siamo nell'iperbole l'iperbole la facciamo fa un po e quando ci sono le esagerazioni e su quello voi siete bravissimi perché venite a scuola e mi dite è un mese che studio non è vero che negli ultimi 30 per 30 giorni per 24 ore siete sempre rimasti a studiare no ragazzi vuol dire che da un mese vi state dedicando particolarmente a quella cosa oppure quando diciamo sì vabbè ci metterai ci metterai due ore a scendere non sono mai due non sono mai 120 minuti vuol dire che ci metterai più tempo di quello che noi ti diciamo questo è un iperbole ecco la vedo più come iperbole questo aspetto che vediamo che descrive qua un'altra sinerdoche classica citato spessissimo insegnatela perché forse è quella più chiara quando noi indiciamo anche il tutto per indicare una parte quindi per esempio sono stato in america vuol dire vuol dire scusate ho avuto un problema di linea stavo dicendo sono stato in america non vuol dire che ho girato dall'alaska a terra del fuoco no all'argentina spesso sono stato in america vuol dire sono stato negli stati uniti d'america no e quindi quando dico sono andato in america sto indicando tutto il continente per indicarne solo una parte ecco questo è un altro dei casi che usiamo spessissimo sono andato in emilia per dire che sono stata bologna e cose del genere ok poi personificazione personificazione la personificazione l'ho già detto un po prima quando diciamo che un tavolo alle gambe in realtà è una personificazione però poi spesso e volentieri noi trattiamo in poesia gli autori trattano cose inanimate come fossero animate non è nulla di particolare lo vediamo tranquillamente nei creatori animati walt disney ha una pensiamo alla bella bestia per esempio un sacco di oggetti inanimati che in realtà animati sono e si comportano così in poesia la cosa è un pochino più fine nel senso che appunto non ho il candeliere che va in giro e fa battute eccetera però se io dico che fai tu luna in cielo dimmi che fai io sto trattando la luna soprattutto se questa mi risponde a un certo punto come un essere animato questo è leopardi che fai luna in cielo eccetera eccetera canto il pastore avanti all'asia sto trattando qualcosa che noi ma anche leopardi saprà benissimo essere inanimato come qualcosa di animato ma come qualcosa di umano direi di più più che animato e basta qua cosa c'è? vabbè qua chiaramente cerchiamo sempre le parti un po' più complicate sul libro perché bisogna dare su un certo tono comunque lì per esempio c'è Petrarca che parla all'Italia Italia mia eccetera poi dice che l'Italia è come un ha le piaghe no? l'Italia è piagata è ferita ecco chiaramente la sto descrivendo come un essere vivente questa Italia è una bellissima poesia anche questa in cui una di quelle belle poesie politiche in cui dimostra che non si si lamenta solo oggi della nazione in cui stiamo ma lo facevano già grandissimi settecento anni fa come Petrarca o come Dante bene poi c'è l'analogia ecco l'analogia allora facciamo l'analogia la salto un attimo perché è l'ultima perché è quella un po' più complicata passiamo a pagina 31 di Pebble l'ho già fatta antitesi l'antitesi è abbastanza semplice sono concetti opposti qui c'è un esempio vive tra il tutto e il niente anche oggi parliamo di Gozzano che è il mio poeta preferito quando avevo vent'anni e poi vabbè poi si cresce e c'è un'altra poesia bellissima di Petrarca che dice è tutta un'antitesi che dice pace non trovo e non ho da far guerra quindi contrario pace o guerra e rido e piango contrario è ardo e sono un ghiaccio quindi brucio e sono gelato e va avanti tutta così poesia bellissima che descrive i turbamenti che tu hai quando sei innamorato quando appunto non sai mai dove stare appunto pace non trovo non riesco a star fermo e però non ho nessuno con cui combattere e se poi anche l'avessi non lo farei ecco e questa è un'antitesi quindi la presenza continua di di opposti anche questo lo facciamo lo diciamo regolarmente perché quanti ci avranno detto sì o no decidi sì o no è un'antitesi cosa vuoi questa cosa qua si deve fare o tutto o niente è un'antitesi ok ecco perché dico appunto cioè buttiamo cioè ragazzi mi raccomando nella vita reale usiamo le stesse cose il poeta è solo più bravo di noi a rappresentarlo c'è una bellissima definizione di poeta che dice che il poeta è quello che descrive quello che tutti hanno nel cuore quello che tutti sentono ma non hanno la capacità appunto poetica il mestiere per rappresentarlo come il cantante fa la stessa cosa c'è un pezzo di giovanotti cantante che non stimo particolarmente ma in questo caso cito sempre volentieri che dice tutte le canzoni mi parlano di te quando siamo innamorati ascoltiamo una cosa diciamo accidenti ha descritto benissimo come mi sento ma questo non ci conosce ne conosce speriamo la persona di cui siamo innamorati speriamo perché di solito un cantante ha più fascino di noi però è questo il concetto della poesia non è niente di strano non è niente di fuori dal mondo ossimoro l'ossimoro è facile da ricordare non so perché ma è un termine che viene abbastanza in testa l'ossimoro invece mentre prima c'è l'antitesi o oppure e di solito è o però petrarca era e rido e piango eccetera l'ossimoro non ha più questa congiunzione in mezzo cioè l'ossimoro è proprio qualcosa che è potenzialmente illogica in un certo senso ghiaccio bollente sono due termini che sono in contrasto tra di loro ma non è o ghiaccio o bollente no è ghiaccio bollente urlo silenzioso non so sguardo visione cieca ok anche questi magari un po' meno ma anche questi vengono usati abbastanza assolutamente una pubblicità funziona molto bene perché appunto ti entrano in testa adesso non me ne vengono in mente però se mi vengono in mente ve le dico insomma gli ossimori vanno vanno molto torniamo all'analogia la 30 ecco l'analogia è una cosa insieme difficilissima e tutto sommato abbastanza semplice contemporaneamente perché perché l'analogia più che essere una figura retorica è la base della poesia cioè tutta la poesia si dice procede o quasi ma direi anche tutta senza tema di sbagliare per procedimento analogico cos'è l'analogia? è raccontare una cosa l'hanno già detto l'altro giorno se ricordate con con Ross Royce no? Achille Lauro significato denotativo connotativo ecco è raccontare qualcosa in realtà per rappresentarne un'altra e vabbè qui c'è l'esempio di una poesia bellissima da Merini che vi auguro di fare non quella pagina 30 che è un garetti con la pagina 31 e sugli no ho sbagliato completamente che vergogna ho scambiato per Merini ho visto la solitudine la notte pensavo ai poeti lavori di notte no è proprio un garetti noia allora praticamente un garetti rappresenta questa poesia adesso ve la leggo anche questa notte passerà questa solitudine in giro titubante ombra di fili tramviari sull'umido asfalto guardo le teste dei brumisti nel mezzo sonno tentennare allora cos'è l'analogia il fatto lo fa vedere il grafico a fianco l'analogia è il fatto che lui rappresenta la solitudine della notte ma non vuol far vedere la solitudine della notte vuol far vedere la solitudine che lui ha dentro e quindi lui in questo modo cerca di descriverla di fuori qua faccio più fatica perché la musica leggera è leggera anche perché perché appunto cerca di comunicarti direttamente però per esempio preferisco ho davanti così cito anche Montale un albero di limoni piantato in mezzo al mio giardino io in questo modo per procedimento analogico potrei descrivervi a differenza di Montale per cui i limoni erano qualcosa di positivo perché lui sentiva il loro profumo perché si ritemprava io con quel povero albero piantato lì in mezzo invece vorrei per procedimento analogico comunicarvi magari la mia solitudine in questo momento che sono appunto chiuso dentro il mio studio isolato solo a parlare con voi ok questo è il procedimento analogico l'ho messo per ultimo per quello un po' più complicato perché in realtà fai fatica a dire questa è un'analogia all'interno di una poesia effettiva perché spesso è tutta analogia soprattutto sulla poesia moderna e contemporanea Montale cito sempre cito spesso Montale perché comunque è stato forse il più bravo di tutti nella storia descrive immeriggiare pallido e assorto un muro rovente con al di sopra dei cocci di bottiglia e punto non dice altro e per il procedimento analogico quella sapete cosa ragazzi è la vita è la vita che sembra che non è proprio la vita è quella situazione che tu hai quando ti sembra di non capire nulla e non avere i modi per capire magari state vivendo in questo momento ascoltandomi intendiamoci però ecco magari io so che da quella parte se supero i miei limiti se non mi trattengo se trovo la persona giusta eccetera eccetera magari riesco a capire e invece no perché perché c'ho questo muro caldissimo e se magari provo a grapparmi sopra ci sono i vetri e poi magari arrivo a vedere l'altra parte ma mi sono fatto un male cane ecco questa è l'analogia montale non ce la dice dobbiamo capirla da soli in realtà in quella poesia ancora ce la dice che la vita è questo però man mano che si va avanti e si avvicina ai nostri giorni bisogna lavorare di più bisogna studiare bisogna capire meglio questi poeti per vostra fortuna in terza e quarta i poeti che studierete sono molto chiari e spiegano molto bene anche quando fanno le analogie bene io ragazzi spero veramente che sia tutto quanto chiaro perché se tutto questo è chiaro le figure le parole le facciamo in pochissimo tempo anche qui l'unica cosa che chiedo è studiare a memoria i vari termini mamma mia eh lo so ragazzi bisogna conoscerli allora primo facile facile inversione inversione vuol dire che per effetto poetico eh per effetto poetico c'è un'inversione di come sarebbe un termine nella vita reale perché lo fanno per sottolineare meglio un termine o anche semplicemente per ragioni metriche perché mi serve la prossima volta la metrica comunque anche per ragioni di rime una delle critiche che si fanno spessissimo autori anche importanti come Vasco Rossi o Ligabue e che fanno inversioni per ragione di rime cioè c'è un pezzo di Vasco Rossi che è un verso che dice e c'hai ragione te scrivete o ditelo in classe c'hai ragione te ripigliate un 4 immagino perché la frase corretta qual è tu hai ragione o al massimo hai ragione tu perché fa questa inversione oltre a un cambio di soggetto con complemento oggetto a dirla tutta ma questo è un altro discorso anzi in realtà è lo stesso e c'hai ragione te viene fatta invece che tu hai ragione viene fatta per ragioni metriche perché gli scriva qualcosa che finisse con te perché poi appunto non mi ricordo l'altro verso con cui fa Lima ma gli serviva questa cosa qua ecco stateci attenti a questi aspetti oppure vabbè qua c'è Leopardi ragazzi quando c'è Leopardi io mi alzo in piedi e lo ringrazio per essere esistito anche se lui pare stato particolarmente infelice comunque sia sempre caro mi fu quest'ermo Colle noi come lo diremmo questo Colle solitario ermo mi fu sempre caro non è la stessa cosa rispetto a musicalità di sempre caro mi fu quest'ermo Colle ok quella è l'inversione ci vuole versato un attimo la linea ci vuole occhio e allenamento per riconoscere quello sì lì vi aiuterà il vostro docente dei prossimi dei prossimi anni sicuramente vabbè sentite che bello sempre Leopardi io ho una passione per Leopardi se non si è capito pagina 34 dolce e chiara è la notte e senza vento perché è un'inversione perché qualunque essere sano di mente fra noi direbbe la notte è dolce e chiara e senza vento ecco perché è un'inversione e invece no la poesia l'ordine degli accenti le cose che faremo nella prossima lezione impone a lui che è un grandissimo autore di scrivere dolce e chiara è la notte e senza vento ok poi venite a vedere gli altri esempi poi c'è l'anafora e questa è un'altra di quelle che non so perché ma per fortuna quasi tutti si ricordano anche perché è abbastanza facile riconoscere l'anafora è una ripetizione solo che se è una ripetizione a metà di un verso si chiama ripetizione se è ripetizione all'inizio di un verso allora si chiama anafora perché proprio voglio sottolineare quella parola così come avviene qui sempre con Ungaretti come questa pietra di San Michele così fredda così dura così prosciugata così refattaria l'anafora se ci guardate bene è spesso utilizzata anche in musica leggera adesso non mi vengono immediatamente degli esempi però adesso magari ci ragiono un po' mentre parlo con voi l'anafora comunque è facilmente riconoscibile insomma ripetizione a inizio di verso se è in mezzo al verso si chiama ripetizione e basta ok poi allora il chiasmo ecco il chiasmo è uno di quelli che è un po' difficile da riconoscere e facciamo fatica un po' anche noi docenti e ve la dico tutta di conoscere il volo del chiasmo per fortuna ci sono ci sono dei fiori di critici che lavorano anche per queste cose allora il chiasmo cos'è deriva la lettera chi che in pratica è la nostra x no solo che i greci leggevano chi e noi leggiamo x e cosa fa la x la x se noi ci immaginiamo ecco vabbè c'è scritto sul libro pagina 34 ma se immaginiamo una x no e scriviamo a b c d spero di non fare drammi matematici e di stare sul facile non c'è più il nostro prof di matematica che ci segue in diretta ma spero di essere chiaro quindi immaginiamo in alto a sinistra la in mezzo a destra in alto a destra la b in basso a sinistra la c in basso a destra la d scrivetelo anche sul libro se volete se vi aiuta a ricordarvi ok ora con quella x come sono i collegamenti la a è collegata con la d giusto la b è collegata con la c ecco questo è un chiasmo cosa vuol dire vuol dire che per esempio abbiamo abbiamo due famosissimi incipit cioè inizi nell'elettoratura italiana uno è il più famoso di tutti nel mezzo del cammino di nostra vita no Dante divina commedia ma quasi come quello c'è Ariosto che iniziò la sua il suo Orlando furioso con le donne i cavalieri l'arme gli amori bene che c'è perché è un chiasmo perché attenzione le donne a il cavaliere b le armi c gli amori d a livello logico donna è collegato con amori cavaliere b è collegato con le armi c quindi le donne i cavalieri l'arme gli amori abbiamo le due parti centrali che sono collegate tra loro e le due parti estreme del verso che sono collegate a livello logico tra loro spero di essermi spiegato ragazzi io uso sempre Ariosto perché è un po' più semplice del sempre fantastico montale che troviamo qui a pagina 34 ok anche qui mi raccomando sono dei problemi ma fatelo quel giochino a b c d con la x e poi scriveteci donne cavaliere armi amori e ve lo vedete comparire davanti al naso insomma questo concetto di chiasmo climax e anticlimax allora anche questi di solito vengono ricordati abbastanza bene il climax è il climax è per chi fa favore musica non lo so un crescendo un aumento di intensità parola dopo parola l'anticlimax è il contrario cioè il climax la prima parola diciamo così è tenue è bassa è limitata e l'ultima è molto forte potente l'anticlimax è il contrario cosa vuol dire qua c'è pascoli da me da me da me non vuol dire niente so io da solo e già si capisce insomma sto peggiorando la mia situazione no? solo il famerico ecco i climax sapete quando si fanno nella vita quotidiana quando si litiga nel senso o anche gli anticlimax dipende da quanto uno è arrabbiato nel senso che avete presente ti ricordi quella volta che e poi quell'altra volta che e poi quell'altra volta che ecco è anche questo è un climax perché se seguiamo un tempo andiamo da un tempo più vicino più lontano se seguiamo a volte invece una gravità si va dalla cosa più grave a quella meno grave o magari quella meno grave a quella più grave ecco se andiamo in crescere è un climax se andiamo in calare è un anticlimax è più chiaro forse l'esempio dell'anticlimax sempre pascoli un altro grandissimo e mi dicono dormi mi cantano dormi sussurrano dormi mi spigliano dormi ok? si parte dal mi dicono parlo normalmente canto già un po' diverso un po' più tenue poi sussurrano mi spigliano piano ok? anticlimax ragazzi cosa devo dirvi? imparatevi bene una volta che avete imparato i concetti dove bisogna impararsi a memoria le definizioni questo è la prossima volta non rilassatevi troppo perché c'è la parte forse più complicata se però avete imparato in memoria bene queste parole sicuramente la prossima la riusciamo a fare meglio la parte più complicata perché la prossima volta iniziamo a contare le sillabe a parlare di accenti e di ictus che per fortuna in questo caso non sono malattie ma sono cose belle perché sono gli accenti dove si accentua appunto il verso poetico io ringrazio tutti quelli che sono rimasti ascoltarmi con attenzione e per qualsiasi necessità come sempre la mia mail ce l'avete grazie a tutti vi saluto con la sigla come al solito e ci sentiamo alla prossima occasione a